Non te smuove na cannonata, recitava una vecchia canzone di successo, ed è così non ci smuovono neppure le cannonate. Siamo così avvolti, raggomitolati dentro i nostri capricci che qualsiasi cosa possano dirci o qualsiasi cosa possano fare per svegliarci, per scuoterci, noi rimaniamo rinchiusi in quella gabbia di volontà propria, di ego, cioè egoismo. Siamo dei perfetti hikikomori dei nostri capricci. In Giappone gli hikikomori sono quei ragazzi che si chiudono nelle proprie stanze per giocare con i videogiochi o leggere parossisticamente i manga e che rifiutano la società esterna, rifiutano la famiglia, rifiutano qualunque contatto. Noi siamo degli egoisti così schiavi di noi stessi da non renderci conto di ciò che veramente accade intorno a noi. O meglio, ciò che accade intorno a noi accade quasi sempre secondo le nostre percezioni come qualcosa che è contro di noi, che ci mette i bastroni fra le ruote, che ci impedisce di essere noi stessi, di realizzare i nostri progetti, di realizzare quel noi stessi che ci siamo dipinti in un mondo virtuale dove saremmo un'altra persona. E non ci rendiamo conto che questa corazza di capricci si erge come un baluardo invalicabile all'avvento del nostro Signore Gesù Cristo. Vi abbiamo cantato un lamento funebre di quelli che ascoltiamo nei funerali e non vi siete resi conto che il lamento era per il vostro funerale. Il funerale cioè della nostra anima, della nostra stessa persona che sta scendendo nella tomba della superbia. Vi abbiamo cantato una canzone perché ballaste come nei matrimoni, come nei momenti gioiosi. Non vi siete resi conto che arrivava il Signore alla tua vita per sposarsi con te, per celebrare con te le nozze nel suo amore, nella sua fedeltà, nella sua misericordia e compiono ogni tuo desiderio, ogni tua speranza. Ma coraggio perché c'è una speranza anche per i capricciosi, cronici come siamo noi. Perché il Signore attraverso la sua Chiesa ci annuncia da una parte la verità senza sconti e cioè che abbiamo bisogno di uno che ci risusciti perché da soli non siamo capaci di darci la vita che abbiamo perduto a causa dell'inganno del demonio. Ma non solo, arriva il Signore e attraverso la sua Chiesa ci annuncia il suo amore, la sua misericordia, il canto di lode, di gioia, di benedizione che Lui vuole mettere nel nostro cuore e sulle nostre labbra di fronte all'opera più grande che può fare nella nostra vita, cioè riscattarci dalla morte, risuscitarci, fare di noi una creazione nuova, un figlio di Dio che vive come Gesù Cristo, che vive la vita di Gesù Cristo, una vita totalmente donata per amare e quindi compiere e realizzare veramente pienamente la nostra vita.